Si è avvicinato al checkpoint d'ingresso di Aradar, non lontano da Gerusalemme. Gli agenti gli hanno ordinato di fermarsi, ma a quel punto un 37enne palestinese ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco contro la polizia. Tre le vittime, un agente di frontiera e due guardi di sicurezza, avevano tutti tra i 20 e i 30 anni. Il quarto israeliano ferito, trasportato nell'ospedale ad Assa di Gerusalemme, verso in gravi condizioni. L'autore dell'attacco, che è stato poi colpito e ucciso, era padre di quattro figli e proveniva dal vellaggio palestinese di Beit Surik. Non aveva precedenti di sicurezza e portava con sé un permesso di lavoro per entrare nell'insediamento. Fatto inusuale, fa notare il quotidiano israeliano, Arez, una nuova ferita in Terra Santa, destinata dunque a far salire la tensione. Il premier Netanyahu ha accusato l'autorità nazionale palestinese di aver sobillato l'attacco e ha annunciato la casa dell'attentatore sarà demolita. Secondo il portavoce di Hamas, Azam Kassam, l'attacco terroristico è un nuovo capitolo dell'intifada che colpisce Gerusalemme. Intanto l'esercito ha subito isolato il villaggio. Fino a nuovo ordine, gli abitanti potranno uscire soltanto per motivi umanitari.